L'inflazione corre forte a Napoli che si piazza in testa alle classifiche delle città più care d'Italia con l'indice dei prezzi al consumo pari quasi al 2% che si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua equivalente a oltre 420 euro per una famiglia media in aumento rispetto alla spesa che ci sarebbe stata con i vecchi dati Istat. Gli aumenti di generi alimentari rispetto a dieci anni fa soprattutto frutta e verdura ma anche nel settore abbigliamento con le attività gestite dai piccoli e medi imprenditori si notano come anche se molti a Napoli non credono alla classifica che vede il capoluogo campano città più cara della nazione. Tutti d'accordo invece sui pesanti aumenti delle tasse e delle imposte costi che hanno un peso non facile da gestire vediamo che aria tira nella zona di uno dei più antichi mercati di Napoli quello della pigna secca. Mi sembra una cosa strana perché abbiamo sempre avuto i prezzi più bassi d'Italia siamo sempre presi di mira su qualsiasi cosa fanno sempre una cosa gigante su Napoli. Allora per me non è vero io lavoro nell'abbigliamento bambini e cerchiamo sempre di portare i migliori prezzi ai clienti certo non come tanto tempo fa però nemmeno questi prezzi assurdi perché se a Napoli siamo i più cari allora in Italia non si può comprare più. Ma io non penso perché se si va al nord Italia sicuramente è molto più cari di Napoli. Certo rispetto a qualche anno fa il costo di vita a Napoli è aumentato ma non ai livelli del nord anche perché gli stipendi non sono gli stessi e qua non ce lo si può permettere di aumentare gli stipendi. I prodotti che noi abbiamo noi abbiamo siamo a confronto un po' con tutti i nostri clienti anche del nord quello che vendiamo qui prodotti che qui vendiamo a prezzi più bassi lì ci stanno almeno un 30 40 percenti in più ma è minimo.